Parli male di me, parli male di noi. Parli male di me, parli male di noi. Ho scritto cento tracce, rovo la pace, l'anno di te. Ieri sognavi un domani, oggi giuro, baby, di piangere ieri. Lei è Cetti Presti Filippo, vent'anni, nissena verace che di professione fa l'addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento della città di Caltanissetta al debutto nel mondo della musica con Demoni, il nuovo video realizzato con Angelo Iacona in arte Ropes che già vanta diverse esperienze. Pubblicato sabato poveriggio su YouTube, in poche ore il video diretto da Alan Marotta ha superato le mille visualizzazioni da parte degli utenti della piattaforma. Una produzione interamente nissena a cura di Noa con riprese a Caltanissetta, dalle ville a via consultore Benintendi, dalle campagne a una vecchia miniera del nostro territorio. Un video musicale curato nei dettagli con una particolare attenzione sulla fotografia che sta riscuotendo non solo mi piace ma un massiccio numero di commenti lusinghieri anche da altri giovani nisseni. E per Cetti e Ropes potrebbe essere solo l'inizio di nuovi, prestigiosi traguardi. Chi siamo noi per giudicare? Le cose dovevano andare così, ok? E lasciami con le mie paranoie, con i miei mille difetti. Ma lasciami.